Ciao a tutti, siamo qui con Davide Vettori che si esibirà questa sera prima dei Motel Connection Ciao Davide Ciao Niente, questo per te è un bel concerto direi Ho visto che hai suonato con parecchie band di un certo peso e sei uscito l'anno scorso, nel 2012 Sì, esattamente, quasi un anno fa, nel senso che il disco ufficialmente è uscito a maggio 2012 Quindi un anno è qualcosa Spiegaci un po' com'è che, come sta andando, hai fatto un anno piuttosto intenso, insomma Eh, beh, posso dire che comunque è andato bene, chiaramente è faticoso, però, sì, sono arrivate delle soddisfazioni, esatto Che tra le altre, se posso fare un inciso, questo sarebbe ufficialmente l'ultimo concerto del pacchetto Visione Cosmetica Perché poi ho deciso di... Ho visto questa cosa della visione cosmetica in internet, però non ho ben capito il concetto alla base Se ce lo spieghi Il concetto alla base Sì, esatto, esatto Beh, dai l'idea di voler comunicare qualcosa con quello che... Fra che scrivi in italiano, fra che sembra esserci una strategia di fondo Dai l'idea di avere un concetto dietro tutto quanto Sì, oddio, era nato come concetto, diciamo che si è creato nel tempo Perché all'inizio del primo pezzo che era stato fatto era Personal Computer, che era proprio il primo in assoluto in italiano E poi da lì mi sono detto, beh, cominciamo a scrivere e assemblare tutti questi tasselli Che poi appunto sono finiti in Visione Cosmetica, che era l'idea, insomma, cioè... Era un po' pretenziosa quella di dare uno sguardo appunto cosmetica sia dal punto di vista proprio prettamente estetico Sia dal punto di vista di Cosmos, quindi universale Quindi cercare di andare a pigliare alcuni cliché di quelli che... E adesso, dopo questa pausa? Dopo questo ultimo concerto, diciamo, che cosa hai in mente? Beh, intanto di fare altre cose extra Nel senso che mi piacerebbe comunque darmi il tempo di fare sia dei video d'animazione O altri lavoretti che non siano esclusivamente fare le canzoni E poi, chiaramente, provare a misurarmi con me stesso Quindi vedere se riesco a superare lo scalino e creare brani nuovi Che vadano eventualmente a finire in qualcos'altro di nuovo Eh, ho visto che hai un crossover di arti che pratichi Fai installazioni, video Ho visto che... com'è che sei arrivato alla musica per... è l'ultima cosa con cui sei uscito? Oddio, in questa maniera sì Sì, prima comunque avevo fatto periodi in band In cui... cioè, diciamo che sono partito prima dalla chitarra acustica Poi al basso Dal basso mi sono reso conto che facevo i filtri col basso Ho detto, probabilmente devo cambiare strumento Da lì sono approdato a sintetizzatori Ho fatto il cantante in un paio di band E non ti mancano componenti della band? Ho visto, insomma, c'è parecchia roba che suona sul tuo palco Sei da solo? Oddio, da un lato sì Perché comunque il condividere... c'è già anche il fatto mentale di creare una cosa con una testa Oppure contro quattro teste È chiaramente un'arma a doppio taglio Può avere un respiro più ampio Però poi, dall'altro lato, genera anche tutti quei conflitti Che probabilmente molti sanno Che nascono nelle band Perché comunque mettere d'accordo tre, quattro persone non è così automatico Ho visto... c'è il cantante dei Captain Mantle Tommaso Mantelli Con cui hai avuto una collaborazione Di che tipo di collaborazione? Stai con la Garage Records? Sì Che penso abbia a che fare Più o meno sì, perché il mondo è piccolo e appunto Quindi ci si conosce tutti Diciamo, beh, lui innanzitutto è comunque un amico che conosco da un bel po' di anni Cioè era il primo fonico che mi ha registrato il primo demo Quando eravamo alti così E poi da lì i vari giri Ci si perde, ci si trova, ci si perde, ci si trova Fatalità, siamo finiti ad abitare vicini E io avevo questa idea di provare a fare qualcosa in italiano Lui mi ha spronato Anzi, devo dirla tutta È stato lui all'inizio che mi ha detto A un certo momento Se canti in italiano e fai un disco in italiano Togli gli pseudonimi e vai fuori col tuo nome Soprattutto non mettere nomi in inglese Dal punto di vista del marketing È una mossa piuttosto comune Che diciamo che funziona nel nostro paese Cioè più una cosa è comprensibile Più lo fai contento al pubblico Visto che comunque reagiscono Sì, quello è vero Poi soprattutto magari non ci sono le storpiature Di chi sbaglia a scrivere il nome o pronunciare E niente, insomma Questa sera alle 9 Prima dei Motel Connection Per appunto E prima, ricordiamolo, del Defrag Che sarà dopo mezzanotte Suonerà lui Con il suo spettacolo Che è piuttosto vivace E ci vediamo questa sera Ci vediamo questa sera Grazie mille Ciao Ciao